La San Cataldese fa sul serio e lo dimostra tesserando nello spazio di 24 ore quattro nuovi giocatori per rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie D, confermando anche il portiere Michele Lacagnina, 22 anni, originario proprio di San Cataldo. Due rinforzi in difesa che portano i nomi di Raul Castiglia, terzino destro di 21 anni, e Vincenzo Burcheri, terzino di 20 anni. Castiglia arriva dal Siracusa, dove l'anno scorso ha disputato un buon campionato di eccellenza e adesso sembra pronto per il salto di categoria, dopo aver vestito anche le maglie di Paternò e Biancavilla. Burcheri invece è un prodotto del vivaio San Cataldese, adesso per lui si sono aperte le porte della prima squadra. Il portiere Lacagnina invece ha rinnovato l'accordo per rimanere a difendere i pali della squadra della propria città. La società Verde Amaranto ha pensato anche al settore mediano del campo, assicurandosi le prestazioni di Salvatore Florio. Il centrocampista ventenne è cresciuto nel settore giovanile del Palermo e lo scorso anno ha già calcato i campi della Serie D, con la maglia del Casarano. Per rinforzare l'attacco invece i dirigenti sancataldesi hanno perfezionato l'ingaggio dell'ala destra Sario Secan, 25 anni. Proveniente dal Gambia, Secan è di fatto un veterano, avendo vestito le maglie di Folgore, Mazzara, Gela, Dattilo, Canicati, Sora, Acragas, Nisse e Mazzarese.